Dice, sono da rietà a questi nomadi, quanto fa comodo nomadi, quanto non li fa comodo zingari, sporchi, brutti e cattivi. Noi siamo brutti, sporchi e cattivi. Non si può vivere così, ma se non ci danno la possibilità, che dobbiamo fare noi? Ognuno se la deve anche conquistare, la possibilità. Ripeto, i due terzi dei Rom vivono... La spinta, non abbiamo le spinte.